Rappresento la Omnia Bar di Perugia, azienda che opera da oltre 65 anni nel mondo dell'ospitalità per quanto riguarda attrezzature e arredamenti professionali. Siamo molto contenti e sono molto contento personalmente di far parte di questo bellissimo evento organizzato dalla Cancelloni con i quali abbiamo ottimi rapporti commerciali e siamo ben felici di poter dare il nostro contributo in tecnologia, in design, arredamento per quanto riguarda tutto il mondo dell'ospitalità e quindi mi fa personalmente molto piacere condividere tutta questa rete di aziende che si è venuta a creare in occasione di questo evento. Sono convintissimo che l'Unione fa la faccia alla forza ognuno per il suo segmento di appartenenza. Facciamo tutti parte di questo grande mondo dell'ospitalità che poi è universalmente riconosciuta nel mondo l'ospitalità italiana e quindi sono molto contento e orgoglioso di far parte di questo meraviglioso evento e faccio gli auguri a noi, a tutti e nella buona riuscita della cosa.